Musica Allora, guarda chi c'è qua Ciao, tu chi sei? Come ti chiami? Alfio Renardi Quanti anni hai Alfio? Ne ho dieci Da quanto tempo sono in la batteria? All'incita 4 anni E questa passione da cos'è nata? Sinceramente all'inizio, quando ero piccolo l'inizio è tutto quando il Babbo Natale veniva dalla batteria di fatto Da l'inizio è tutto Ah, quindi Babbo Natale te la regalava la batteria di fatto Quella con tempi Quella con tempi Va bene Alfio Allora, io so che tu hai un nome d'arte Ti chiami Alfio de Jack Hamm Che significa? In italiano significherebbe Alfio di Martello Pneumatico Perché siccome suono abbastanza forte Il mio maestro e il mio padre mi dicono che picchio duro Ok, noi ti vediamo ascoltare Dopo l'esibizione di Alfio Facciamo 10 minuti di pausa Quindi vi presento Alfio Leonardo in arte Alfio de Jack Hamm Grazie mille di pausa Grazie mille di pausa Grazie mille di pausa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.